Siamo in modalità automatica le lampade si devono accendere con certe diagnostiche quando è accesa una lampada deve passare un TOT di tempo prima che si accenda la successiva qual è il 4? o si usano i timer interni di Arduino quindi uno si deve mettere lì e programmare il timer interno per fare attento che segua bene i tempi oppure si usa una funzione che è già integrata nel ambiente Arduino che è il delay se io voglio tenere l'accesso 2 secondi ci metto un ritardo di 2 secondi per l'accensione di una lampada e dell'altra è molto semplice quindi semplicemente in questo software viene accessa una lampada poi si aspetta un delay di 8 secondi e poi si accende la successiva specificamente ora qual è il problema? con questa tecnica se io premo un pulsante mentre l'Arduino è in fase di delay non se ne accorge e questo chiaramente è il ciclo allora come facciamo? non riusciamo a controllare e quindi abbiamo usato il meccanismo delle interruzioni l'Arduino può essere interrotto durante il suo flusso di programma tramite il meccanismo delle interruzioni che è un meccanismo puramente Arduino quindi è proprio un segnale fisico che viene inviato da Arduino e gli viene fermo qualunque cosa che lo stia facendo fai quest'Arduino adesso e quindi in questo modo abbiamo agilato il problema la complicazione è stata solo quella di creare diciamo un piccolo Arduino un po' più sofisticato con un semplice pulsante però per evitare rimpalzi e cose strane però era più semplice di stare a fare un dinamico a noi per noi almeno ci siamo dentro anche ok vediamo brevemente lo sketch come è fatto ovviamente allora come vedete lassù ci sono vai in file per questo sketch se io mi metto a descrivere per i punti si va a domani quindi mi sembra abbastanza inutile vediamo diciamo a grande fine come funziona questo fornambio va bene infidiamo ovviamente qualche libreria esterna come abbiamo detto tra cui la MIRF eccetera nella set up che parte all'inizio del diciamo del flusso avviamo diciamo inizializziamo la nostra libreria SPI assegnandogli diciamo assegnandogli il library SPI controllo dell'SPI facciamo partire la nostra libreria che è un SL indicata lì come SL con un setup quindi viene configurato automaticamente e poi diciamo guarda arriveranno delle interruzioni sul pin abbiamo usato un po' un trippio però diciamo su un certo pin arriverà un'interruzione quindi stai in ascolto perché probabilmente durante il flusso dovrai interromperti e quando ti interrompi vai usa quella funzione lì c'è il 4 rising vuol dire che deve stare attento al fronte e salita dell'interruzione una volta configurato il tutto si passa alla loop che è quella che viene ripetuta continuamente ad ogni giro l'arquino controlla se c'è qualcosa sulla porta seriale cioè se io sto cercando di riprogrammarlo se non c'è nessuno ignora la questione e va a fare la serie la SL sequence advance in quella sequence advance c'è tutto il mondo di questo software è veramente grossa e speranza è complicato però in sintesi cosa fa? controlla in quale modalità si trova l'arquino se è manuale automatico o casuale e a seconda di quale prende la decisione se avanzare al passo successivo della sequenza automatica oppure in caso di manuale non fa niente aspetta se non c'è la questione che diciamo con un'altra un'antenna si accesa oppure se in modalità casuale diciamo c'era un luogo un nuovo diciamo una nuova lampa dal centro comunque sta tutto la pena quindi come diciamo prima per fare lo sketch della T85 si può scaricare l'SDK già modificato per il microcontroller della T85 e quindi non dovevi che cerchi il filato ma per programmare anche la T85 la libreria MIP come abbiamo detto esiste anche per la T85 e questa è stata una cosa fantastica perché comunque doverla rifare non è la senso che è a casa del terfascio quindi uno scarica la libreria e la funziona la programmazione dei lattini può essere fatta con l'albino stesso non è semplice però si può collegare i lattini direttamente all'albino 1 e utilizzare l'albino 1 per programmare i lattini perché i lattini non la portano la stessa e qui c'è il software del lattini quello delle lattini che qui è una cosa molto semplice qui è un po' più lungo ma c'è un file solo in realtà si tratta semplicemente di diciamo autoconfigurarsi all'inizio come al solito scegliere il proprio indirizzo scegliere l'indirizzo da cui riceve i comandanti e durante la loop controlla semplicemente se qualcuno gli ha scritto qualcosa dentro nel mirco da prendere perché quando c'è qualcosa lui diciamo nel caso in cui arriva qualche comando esegue quell'operazione di accendere e spegne l'antenne il software in Python come dicevo ha usato delle verite grafiche standard la parinta del Python con alcune estensioni per fare le visioni più carini speciali più comodi abbiamo usato il modulo PySerial per comunicare con le verite cariche seriali che è un modulo già pronto quindi quattro comandi che segnalizzano tutto e infine abbiamo fatto un pacchettino tramite PytoX in modo che il software era già pronto così senza dobbiamo installare l'ambiente Pyton o quello che serve sul computer di chi non il software è molto semplice con un programma normale purtroppo un programma è per Windows non so se qualcuno se ce l'ha usato però ce l'ha chiesto per Windows l'abbiamo fatto per Windows in realtà per esempio io lo sviluppo sul mio Mac un Mac di base già faccio chiaramente ora il programma è un po' adattato perché non è immediata dunque il software è molto semplice si riempiono le sequenze si sceglie il colore della lampada e si tarica tramite il collegamento di una spinta il software è veramente ma adesso faccio la nostra finisca la dimostrazione giusto tre secondi come funziona allora vabbè intanto io accendo il telecomando adesso accendo un tre led e in automatico ora non sta succedendo niente in automatico lui sta cominciando a chiamare le lanterne ora io vediamo se parte perché intanto come al solito nelle promozioni non funziona mai nulla ok allora questa è la modalità test in pratica lui le sta chiamando una per una e capisce se loro sono online o meno il protocollo non sembra infatti noi ce ne siamo accorti solo in fase di test che è bidirezionale in automatico questi moduli dicono ti mando un pacchettino l'hai ricevuto? si ok va avanti avevamo avuto un problemino all'inizio infatti le lanterne smattavano completamente perché non riuscivano essendo due sullo stesso canale quando li trasmettevano indietro la risposta andavano in conflitto tra loro e tutto il sistema smattava ma di brutto cioè veramente di brutto a questo punto io posso selezionare la modalità per esempio vado in manuale ora lui sta finendo il ciclo e lui ora si ferma e aspetta a questo punto posso cominciare a chiamare le lanterne caso le chiamo con il pulsante poi vado in automatico ecco questa è una delle varie sequenze che si possono caricare tramite interfaccia usb per esempio ora c'è questa qui poi eventualmente vado su la 2 meno più lenta chiamo le altre poi la 3 questa è molto lenta è un problema tipo somiglia molto a quella di prima sono più fatta indietro è totalmente custom questa cosa quindi nel senso tramite quel software che avete visto prima potete decidere per quanto accenderle e come fare il lento quindi è veramente abbastanza versabile poi cambiando leggermente lo sketch uno può anche accenderle volendo non soltanto una per una ma possono essere chiamate in qualsiasi modo anche 5 alla volta ponendo infatti la fase iniziale abbiamo fatto con un test che ogni pulsante accendeva e aspettava lì la luce non si spengeva ma poi la rispengeva quindi volendo potevo accenderla anche tutta insieme il punto è che è stato chiesto così e quindi alla fine la fine è facilmente è facilmente questo è la quattro che lasciamo a perde questo è un po' così e poi questo è proprio uno sfizio per andare a vedere quanto il protocollo poteva comunicare velocemente giusto per capire che ricordate che in ogni accensione ci sono 6 comandi cioè ogni volta che accendo una lampada comunico con tutte le altre quindi questo modulino anche economico insomma riesce ad andare a delle velocità non è differenze a questo punto vado a modalità la modalità l'ultima è la casuale e ora Arduino sta generando in maniera pseudo-random degli indirizzi per le lanterre le piama questa è la velocità lenta infatti vedete ci sta un'ora per ognuna vado su 6 e quindi lui accende più velocemente vedete che magari ogni tanto succede che qualche l'antenna resta accesa un pochino più lungo perché nella generazione randomica può succedere che venga rigenerato il precedente quindi come ora è rimasta rimpiantata quindi anche per questa non ha un valore dal punto di vista dell'allenamento perché se uno riesce a mirare una palla la velocità lì la vedo dura vabbè poi abbiamo le modalità varie quindi questa è la modalità stand by ha spento tutto quindi va tutta una modalità a basso consumo questa è la test quindi ricomincia come dall'inizio quando abbiamo acceso e poi la modalità reset spinge tutto ricordate